Angela Merkel, come stai? A me scoccia a pensare che pure oggi non prendo un cacchio per intervistarti. Ma come stai? Stai in forma, ti vedo bene. Conte, parliamo di lui. Non so se fa l'amore oppure credi di conoscere due ragazzi. Giuseppe c'è una responsabilità evidente. Come ti tratta? Qual è il vostro rapporto? Faccio panzerotti. Ricordiamo che Conte sta ancora con la fidanzata ufficialmente. A sonse se ne è andata. Certo. Matrimonio, più vicino lo fai, se ne batte se ne fai in cura. Anche se non è il vostro premio. E poi adesso ho fatto riscaldamento globulare, come si dice. Tanto per la primavera si sente dell'estate che non è molto dicembre. Ok. E poi Michele è l'unico famoso. Per esempio, Nand potrebbe essere veramente avuto molto come oggettivo, consistenza e gigione. Poi veramente all'inizio forse c'è stato un... Oggi potremmo avere dimostrazione che è stato di sinistra. S'occupazione, eccetera. Ecco, invece vedo come si chiama Zio Peppino di Benevento. Ma continuate, mi fanno vedere il Molise, che è una fissa tappa dei controlli fiscali. Infatti è venuto pure l'Inps a fatturare. Cioè come il Frioli? Però non è che ci campi veramente. Certo, sono gemellati. Adoro. Ma non viene Fabio, ci organizza e fa una bella festa.